in diretta fatelo a casa adesso ci vuole un'esperienza eccitante il set dell'obbedisco con il salto di banzai salto di banzai sta qui che prova era Ruben mentre fai il salto fai il topping dai Ruben come si chiama il salto lo devi fare il topping oh Ruben devi fare il topping quando sei in aria però il doppio manico mi fa mi fa Eccolo E' fatto Topping Questo qui era il salto di Che salto era? Che salto era? Che salto era il salto? Che salto era il salto? Grazie.